Tutte le sere andarono a suonare, fino a 3, 4, 5 alla mattina e poi alla mattina quanto si vedeva il sole andavano a chiudere gli scuri perché non venisse mai il giorno dicevo. I più bei pezzi sono questi qui. Quello che a me piace parecchio dell'ambiente della musica popolare è il fatto che ci sia una continua relazione tra suonatori e ballerini. Mi piace di più ballare i balli staccati perché c'è il più ritmo. Perché suoni? Perché mi piace. Suono perché così riesco a inseguire i miei sogni. Grazie a tutti.